ma questa volta l'ha fatto Isidoro e quindi non ho avuto l'occasione Allora, alla chitarra e alla voce Antonino Ai flauti Francesca Alle percussioni Peppe Alla fisarmonica Giorgio Al basso Domenico Al mixer Antonino E io, alla voce, è solo quella o Paolo Grazie, siete magnifici Spero di ritrovarvi a tutti i nostri concerti perché senza di te non siamo niente Grazie di tutti